È un attore, uno scrittore e che già scrive solidarietà, no al razzismo, perché io da qua vedo pochissimo, però immagino questo. Questa puntata ha una finalità. Io ieri sera ero a mangiare, l'altra sera ero a mangiare con un'amica cinese, Pempene e altre signore cinesi, poi la testa deve funzionare, anzi per farla funzionare io vi voglio far vedere in tempo reale, alle mie spalle, che cosa sta succedendo. Quest'epidemia ha colpito esattamente, se riusciamo a dare live, quello che sta succedendo nel mondo e vedete, al momento, questo è tutto il nostro mondo, il focolaio là in Cina è molto più rosso, poi ci sono altre parti piccole rosse dove sono successi e ci sono dei casi, però guardate, sono quasi 14.000, esattamente 14.637 in questo momento, mentre vi parliamo in tutto il mondo, le persone che sono state colpite da questo virus, ma attenti, se andiamo nella fila più bassa, ben 14.458 sono in Cina, ok? Gli altri, con numeri molto bassi, sono sparsi nei paesi soprattutto limitrofi, morti in questo momento, perché adesso in tempo reale, un sito che dà la situazione in tempo reale, 305 persone, 443, il numero verde, sono invece le persone che sono guarite, sono uscite da questa epidemia. Questo per dire che cosa? Bisogna essere attenti, bisogna prendere delle precauzioni, ma viva Dio, non esasperiamo i toni, non creiamo allarmismi esasperati su una situazione che piano piano ritornerà, speriamo tutti in fretta, sotto controllo.